Per iscriverti al canale schiaccia su iscriviti e sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti delle notizie. È morto a 69 anni Paolo Giaccio, il noto giornalista musicale, autore, dirigente televisivo e grande scopritore di talenti. Aveva debuttato in radio con Per voi giovani alla fine degli anni 60 portando una grande ventata di innovazione al settore radiofonico. Ricordiamo il suo settimanale TV Odeon con Brando Giordani e il cult Mr. Fantasy con Carlo Massarini e Mario Luzzato Fegiz. Negli anni 90 si era dedicato alla direzione di vari canali satellitari della Rai. Era nato a Roma il 16 febbraio 1950, uomo di rara sensibilità e dolcezza d'animo, generoso e altruista a tutti i livelli. Ha sempre lavorato dietro le quinte apparendo molto raramente in video. Si era sposato qualche settimana fa con la scrittrice Camilla Baresani, col solo rito religioso. Per espresso desiderio di Paolo Giaccio non vi saranno né cerimonie né funerali, una scelta in linea con lo stile di basso profilo che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Grazie. Grazie.